Buonasera a tutti ragazzi, bentornati su Crypto Sala da Ancora Oggi, io sono Federico, siamo al 11 dicembre 2020. Ragazzi andiamo a commentare come si sta muovendo il prezzo di Bitcoin nelle ultime ore rispetto all'ultima volta che ci siamo aggiornati. Continuiamo il paragone con la chart odierna, con quanto accaduto a maggio scorso, perché le similitudini continuano ad esserci e potremmo sfruttarle a nostro vantaggio. Poi ragazzi in ultimo voglio mostrarvi una chart, quella da una parte quella di Bitcoin contro il dollaro che guardiamo di solito, ma dall'altra una chart che si chiama DXY. Quindi una chart che paragona il dollaro con un basket di asset, principalmente valute, per mostrarvi come le due chart sono tra loro inversamente correlate. Quindi ragazzi come al solito se vi sembra interessante mi raccomando lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non foste iscritti, cliccate la campanella per le notifiche e lasciate i vostri commenti numerosi che sono sempre molto apprezzati. Allora ragazzi guardiamo insieme la chart, in questo momento Bitcoin si trova a 17.790 dollari. Cosa sta succedendo? Allora rispetto al nostro triangolo ribassista con la rottura del supporto a 18.6 qualche giorno fa, precisamente l'8 dicembre scorso, Bitcoin è crollato, ha creato un minimo il giorno successivo a 17.600 dollari, successivamente Bitcoin ha rimbalzato e ha trovato resistenza proprio in corrispondenza dello stesso livello prezzi che prima era un punto di supporto. Quindi vi ricordo sempre che di solito quando viene violato un punto di supporto lo stesso viene testato come punto di resistenza e viceversa. Quindi i trader sanno che questo è un punto per andare a ricaricare i loro short o se non erano entrati short con il primo dump è un modo per rientrare nuovamente short all'interno del mercato. Successivamente Bitcoin trova resistenza quindi lungo i 18.6, scende nella giornata di ieri e scende anche questa mattina creando un minimo più basso rispetto a quello precedente a 17.600 dollari all'incirca. In questo momento Bitcoin potrebbe essere all'interno di una formazione che si chiama Falling Wedge ed è una formazione che Bitcoin crea spesse volte sia al ribasso il Falling Wedge come in questo caso che a rialzo si chiama Rising Wedge. Il Falling Wedge ha un bias rialzista. Questo vuol dire che nella maggior parte dei casi la formazione vede la rottura del livello di resistenza discendente. Quindi è una formazione che nella maggior parte dei casi vede l'uscita del prezzo verso l'alto mentre il Rising Wedge vede l'uscita del prezzo verso il basso ed è una formazione ribassista. Quindi se così fosse potremmo aspettarci che Bitcoin continui all'interno di questa formazione, magari continui a scendere creando una sorta di doppio minimo rispetto a quanto accaduto rispetto al dump che c'è stato a fine novembre scorso. Quindi potremmo vedere un doppio minimo e poi un'uscita della formazione verso l'alto per andare nuovamente a testare i 18.6 come punto di resistenza questa volta. Ed è esattamente ragazzi quanto accaduto lo scorso maggio per cui Bitcoin a seguito della rottura di questo punto di supporto che potrebbero essere le nostre attuali 18.600 dollari è sceso in questa circostanza, ha poi ritestato lo stesso livello prezzi come punto di resistenza, è sceso, ha viaggiato all'interno di questo Falling Wedge e poi è uscito al rialzo. Andando di nuovo a testare questo punto prezzi quindi come resistenza e poi uscendo al di sopra dello stesso creando addirittura un massimo più alto rispetto a quello dell'inizio della formazione perché il target in caso di uscita di un Falling Wedge è il prezzo di ingresso. Quindi ci si aspetta che il prezzo possa tornare al livello di ingresso del Falling Wedge. In questo caso addirittura il prezzo è tornato ad un livello più alto. Quindi se dovesse verificarsi la stessa cosa potremmo vedere Bitcoin a un certo punto magari viaggiare ancora all'interno di questa formazione, andare ancora più in basso, magari creare un doppio minimo e andare a riempire interamente il gap o comunque quasi tutto. E a quel punto uscire verso l'alto e testare lo stesso livello di supporto come resistenza, bucare questa resistenza e creare addirittura un massimo più alto rispetto a quello precedente che erano i 19.886 dollari. E poi a quel punto ritrovare un ritracciamento. Quello che è successo a maggio scorso a seguito di questo movimento c'è stata una lunga fase di lateralizzazione, qualche giorno direi, forse una settimana e poi successivamente una nuova esplosione dei prezzi verso l'alto. Quindi è uno scenario ragazzi che non escludo. Quindi una discesa, riempiamo il gap, poi torniamo su, creiamo addirittura un massimo più alto di quello precedente e poi lateralizziamo per poi ripartire verso l'alto. Fatemi ragazzi voi sapere che cosa ne pensate. Voglio mostrarvi anche in questa circostanza un'altra formazione, questa volta un rising wedge, esattamente il contrario rispetto a quello che vediamo. Piccolino c'è stato in questa circostanza, vedete i prezzi salgono verso l'alto, stretti tra supporto e resistenza e poi la formazione, il prezzo crolla e va al suo target che è il prezzo di ingresso all'interno del rising wedge in questo caso. Quindi se Bitcoin dovesse bucare questo punto di resistenza, magari non a questo tentativo, magari dovremmo ancora scendere ancora e a questo potremmo aspettarci un ritorno ai 19.000 dollari all'incirca. Fatemi sapere cosa ne pensate. In ultimo ragazzi voglio mostrarvi, abbiamo a destra una chart che si chiama DXY che paragona il valore del dollaro con un basket in particolare di valute straniere. E a sinistra abbiamo la chart di Bitcoin, siamo sul time frame settimanale. Come vedete ci sono interessanti correlazioni inverse, per cui quando il dollaro è debole contro il suo basket di valute di riferimento, assistiamo a un vero proprio pump di Bitcoin, questo è il bull market del 2016, quindi ha corrisposto a un indebolimento del dollaro contro le sue valute di riferimento. E la stessa cosa è successa ragazzi nelle ultime settimane. Bitcoin sale tantissimo praticamente da quando c'è stato il dump da marzo scorso e il dollaro contro le sue valute di riferimento crolla in maniera molto importante. Quindi c'è una correlazione importante tra il DXY e la chart che paragona il dollaro in Bitcoin. Ovviamente se il dollaro si svaluta nei confronti del suo basket di riferimento, anche Bitcoin potrebbe approfittarne. Ecco, ragazzi per oggi è tutto, fatemi sapere che cosa ne pensate, io vi ringrazio per la vostra attenzione, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!